Scusate ma siamo ancora sotto shock da quello che è successo, che ha combinato nostro figlio. Mia moglie proprio non è in grado di scendere e non capiamo come possa successo una cosa del genere. Porgiamo le massime condolianze, siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia perché l'avevamo conosciuta bene, veniva qua, con Filippo si vedevano, sembrava una coppia perfetta e quindi non so come poter rimediare, cioè nessuno porterà più la Giulia ma siamo molto vicini a questa famiglia e quindi non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così, un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare e penso che c'è fino a quel maledetto sabato che praticamente mi sembrava che facesse, cioè ha sempre comportato un ragazzo che purtroppo io da padre l'ho pregiudicato, ho pensato che fosse un figlio perfetto perché non mi ha dato mai nessun problema, né a scuola né con i professori né mai un litigio con qualche compagno di scuola o che altro, mai e non ha mai dato le mani neanche con il suo fratello, neanche una baruffa la più minima e quindi trovarmi con una cosa del genere è una cosa che, voi capite, non è concepibile, cioè non c'è qualcosa che è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello gli ha scoppiato una valva, non lo so perché non è, perché poi mi ricordo che la prima volta che si erano lasciati lui diceva eh ma io mi ammazzo, io mi ammazzo, non posso stare senza la Giulia, io dicevo scusate ma da papà, insomma anch'io avevo vent'anni all'epoca, dicevo ma sì ne troverai altre dimorose, non ti preoccupare, è quello che fanno tutti penso, i genitori dicono ma sì non ti preoccupare, ma no papà senza la Giulia non posso più vivere, ho detto va bene, piano piano dopo si sono rimessi insieme, ho detto va bene, meglio così per loro, invece dopo si vede che di nuovo la Giulia avrà capito che non era il ragazzo per lei, non lo so, e si sono lasciati ad agosto, ma poi si sono ripresi perché si vedevano all'università e lì ancora, ma io penso, sono sicuro che la Giulia non avesse cioè perché una sensazione che lui le avesse torto mai un capello perché se no non avrebbe continuato comunque a uscire se lui gli faceva stalking o che altro, lei era secondo me si sentiva anche protetta, non protetta però era sicura che quando usciva con lui non rischiava niente perché se no in tutti questi anni, cioè al minimo lo vedi un ragazzo se ti fa qualcosa, se è violento oppure un po' burascoso, cioè devo dire che lei era abbastanza, forse... Tanti episodi in cui sembrava possessivo, tanti episodi in cui la controllava, tanti episodi in cui sembrava non accettare... Sì ma quella là, cioè ho sentito, io ho sentito che l'ha seguita una volta perché lei si è andata all'appuntamento a Padova per andare a prendere i vestiti, che lui e lei gli hanno detto ma non venire, invece dopo lui è andato e si è fatto trovare lo stesso sotto l'autobus, ma è successo una volta, non è che lui andasse tutte le sere oppure sotto casa di lei, chi è che non l'ha fatto, anche a mia memoria, io se c'è andavo... Ha voglia di riabbracciarlo, di vederlo, suo figlio? Eh questo è nata... Cioè quando mi hanno detto che l'hanno trovato e c'è che se volevo anche andare in giro, c'è una cosa dura, cioè non sapevo più se... Cioè non è quella cosa che... Perché non è che sia tornato da un viaggio e quindi sì, dico ma sì, perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. In realtà... Purtroppo sì, però dopo è... mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza di che comunque la vita deve andare avanti e quindi spero di vederlo, ecco. Basta perché... Si pensava fosse morto invece è vivo, quindi quando lei ha saputo che era stato arrestato forse ha avuto la speranza di rivedere ancora suo figlio. Sì, anche... Sì, però come le ripeto è stata un'emozione che non so se ero commentamente contento perché quando ho trovato il corpo di Giulia ho detto che anche lui c'è... Va bene, adesso lasciamolo andare. Grazie. Mi dispiace ancora, grazie. Grazie, scusate. Un'altra cosa, volevo far capire... Cioè adesso vedo tutti questi che... Varie supposizioni, questo... Cioè mio figlio sì è stato quello... Ha combinato e pagherà per quello che ha fatto e che la giustizia faccia il suo corso, eccetera. Ma voglio dire c'è anche... C'è una famiglia, c'è anche un suo fratello, insomma che bisogna anche capire bene perché dopo c'è... Non è facile per affrontare anche per il fratello queste cose vedere c'è... Descritto come un mostro perché non può, non è un... Non lo è mai stato, non può essere vero. Si chiamerà Gino Cecchettino? Ok, avete scritto una lettera. Sì, ma bisogna trovare anche il coraggio per farlo. Ecco.